Guarda, che cosa avete davanti a te? Diverse cose. Immagina di asfaltarlo o di piantarci un altro. Due futuri diversi almeno. Sì, ma a un momento non c'è niente. Sì, ma quello che può diventare in base a cosa che decidiamo di fare oggi. Per assumere, faccio un esempio. Prendete due comunità con variabili di partenza identiche, tasso di natalità, tasso di mortalità, ricchezza identiche. Una comunità si fa domande sul futuro, una comunità non si fa nessuna domanda sul futuro. Queste due comunità avranno futuri diversi. Il concetto di capacitazione, la capacità di vedersi, ma di immaginarsi, non solo nei libri, ma come comunità. E dunque di seguire, coltivare delle visioni che possono essere utopie, che possono essere progetti. a te? Diverse cose.